Sì, sì, comincio con un sì, perché lo sport, in particolare questo sport, l'equitazione, è l'unico sport che esiste al mondo fatto con un animale e con un animale del tutto particolare. Io vi posso raccontare la storia di questo cavallo che mi ha dato enormi soddisfazioni e indirettamente la più importante lezione della mia vita. Il mio istruttore maestro di sport e di vita era il Marchese Stato, il Marchese Fabio Mangilli, uomo di una rigidità, di un rigore, di un'intelligenza e di una capacità intellettuale straordinaria, che mi ha preso in berbe quasi a 18 anni e mi ha trasformato in pochissimo tempo forse nel migliore cavaliere del mondo in quel momento lì. Comunque un vincitore di due medaglie d'oro olimpiadi. Come? Usando il rapporto e la conoscenza con questo cavallo che era un cavallo irlandese di enorme personalità, di enorme dignità, che pretendeva rispetto. Ci abbiamo messo un po' a convincerlo che si poteva fidare di noi, in particolare di me. In effetti questo è un cavallo che ho sempre soltanto montato io. Lo potevo montare io e il personale, l'uomo, il groom diciamo in gergo, che si occupava di lui, non accettava altri. Proprio faceva di tutto, si strofinava contro le pareti, passava sotto gli alberi, si rotolava in terra pur di liberarsi di qualcuno di cui non si fidava, di cui non aveva neppure la certezza di non potersi fidare. Ma era così. E Fabio Mangili mi disse, questo è il cavallo per te, tu hai pazienza, sei piuttosto robusto da sopportare una serie di cadute importanti, montalo tu, però fai quel che ti dico io. E io così feci. Tanto che questo cavallo progredì straordinariamente, si fidò di me, anche se quando nel lungo lavoro di allenamento che noi dovevamo fare per questa nostra disciplina che si chiama completo di equitazione, che come un triatrone, come un pentelton, è composto delle varie discipline più importanti dell'equitazione, il cavallo mi segnalava chiaramente che non ne poteva più, che smettessi di rompergli, come dice Camilleri Kabazizi. Io dovevo smettere di chiedere impegno, dovevo interrompere, lasciargli passare questo momento di irritazione e poi riprendevo. E con questo cavallo io ho dominato l'Olimpiade di Tokyo, letteralmente dominato. Pensate che a Tokyo si sono andati tutti i più importanti del mondo, perché era lontano, costava un sacco di soldi mandare una squadra a Tokyo, dall'Argentina, dal Cile, dagli Stati Uniti, dalla Russia, mandare una squadra a Tokyo, dall'Italia, dal Sudafrica, costava una montagna di soldi. Pensate che il viaggio che noi abbiamo fatto da Roma a Tokyo con i cavalli ha fatto 5 tappe con un aereo a pistoni, a elica, quindi era un viaggio pesante e costoso. Però andò tutto bene, i cavalli arrivarono bene e nonostante che fosse un cavallo piuttosto estroso, piuttosto complicato, era fra i primi dopo l'addestramento. Non era primo, ma la prova di fondo, che è di 36 km, e la prova di salto-ostacoli li fece, senza sfiorare una barriera, a delle velocità impossibili per gli altri. Per cui dopo il primo giorno ero decimo, dopo il secondo giorno ero secondo e dopo il terzo giorno ero primo largamente, perché quello che era in testa l'inglese Richard Mead, che poi vinse le Olimpiadi nel 72, combinò un disastro quel giorno, un percorso molto difficile che solo la nostra tecnica ci permise di superare brillantemente. Immaginate, a 20 anni vinci le Olimpiadi, gioia, tutta la vita segnata da questo fatto. Ma vi dicevo prima, quello che mi ha più lasciato nella mente, un grande insegnamento è nel cuore, è stato quattro anni dopo, Olimpiadi di Messico, Olimpiadi dimenticata da molti perché per la nostra equitazione fu inficiata da un violento uragano tropicale che modificò a metà della gara le condizioni di gara. Pensate che il percorso prevedeva il salto di 4-5 volte di un fossetto di 3-4 metri, con degli ostacoli più o meno normali sopra, l'uregano fece sì che questo fossetto di 4 metri diventò un fiume rapinoso di 70-80 metri di larghezza. Io fui portato via dal cavallo, altri cavalli furono portati via e annegarono a causa di questo fatto. La gara non fu arrestata, non se ne parlò. Comunque la nostra squadra, nonostante che io non avessi potuto finire, era seconda dopo la prova più dura, questa prova di fondo. Incredibilmente il mio compagno di squadra Giuseppe Ravano, che era partito in condizioni peggiori delle mie, riuscì a finire il percorso. Questo cavallo che si chiamava Lord Jim, un cavallo irlandese, non superò gli ostacoli saltandoli, li superò a nuoto. Pensate a una gara di equitazione in cui per finirla devi nuotare e passare gli ostacoli a nuoto. La squadra seconda. La mattina dopo il marchese Mangilli ci convocò e disse ragazzi, ascoltatemi bene, non tollero obiezioni. Il cavallo Lord Jim ieri ha dato tutto, oggi non parte. Per un ovvio, naturale e congenito rispetto che noi dobbiamo dare a un compagno di sport che ha dato tutto. Non possiamo chiedergli di fare quest'ultima prova. Capite per dei giovani che avevano dopo 4 anni replicato con possibilità di rivincere la medaglia d'oro. Un successo così enorme come era stato a Tokyo fu una doccia gelata. Però Mangilli disse non tollero obiezioni. Il nostro sport è questo e non altri. Quindi noi rinunciamo, ovviamente due cavalieri rimasti non facevano squadra. Angioni e Argenton si classificarono bene, ma la squadra non c'era. Vi confesso che dopo questa decisione io ero, ma non solo io, eravamo rimasti molto male. Però già il giorno dopo tutti i grandi personaggi del mondo che erano venuti a vedere la gara vennero a rendere omaggio agli italiani che avevano dato una lezione al mondo di come veramente si deve intendere questo sport. Da Filippo Didimburgo a Bernardo Dolanda a qualunque presidente degli esternuti Reagan, tutti vennero a congratularsi con noi. Futuro presidente. Allora era un grande appassionato di equitazione italiana Reagan, di Caprilli in particolare. La più grande lezione è questa, che dopo tanti anni questa decisione assunta da Mangilli mi insegnò davvero che questo sport è fatto da due atleti e non da uno. Cari amici, la meraviglia di questo luogo, che è la Biblioteca Sportiva Nazionale, è che conserva tutto quello che riguarda la storia del nostro sport. Ma come spesso succede a noi italiani, di quelle cose importanti e meravigliose che il nostro paese è stata non solo l'origine, ma anche il massimo del sviluppo e della qualità, rischia di essere dimenticato, di non essere considerato per quello che vale. Succede per quasi tutte le meraviglie del nostro paese, ma questa a uno come me che è vissuto nello sport da amatore per tutta la vita è un vero peccato. Per me oggi è un grandissimo regalo, è un bellissimo giorno, perché oltre a qualcosa che mi riguarda direttamente per la mia carriera sportiva, ci sono anche dei libri meravigliosi che fanno capire quanto l'Italia ha dato in questo sport che io ho fatto, l'equitazione, fino a partire dal rinascimento. Tutto quello che è successo in equitazione da allora ad oggi è nato in Italia o ha potuto avvenire perché in Italia si era sperimentato, fin da Pignatelli, Grisone ed altri in periodo rinascimentale, da cui sono venuti da tutta Europa a imparare e a diffondere, Francia, Germania, Inghilterra, Austria, Spagna. Fino ai primi del Novecento, quando più di 140 ufficiali, giovani ufficiali, vennero mandati alla nostra scuola di cavalleria a imparare il metodo che aveva inventato un giovane ufficiale che si chiamava Livornese, che si chiamava Federico Caprilli. Quindi attraverso tutti questi secoli gli altri hanno limato, migliorato e utilizzato quello che era nato in Italia. Se proprio mi costringete di parlare di me, io sono forse l'ultimo dei Moicani, detto in termini letterari, perché io vengo da una successione di grandi maestri che mi hanno insegnato non solo lo sport, non solo come stare al mondo, ma anche come capire e farsi amico un cavallo. E sono arrivato a quasi 80 anni e posso affermare con assoluta certezza che se un cavaliere vuole vincere oggi in un mondo che è estremamente competitivo, oggi non si vince per caso, si vince battendo tutti i migliori che vengono da molti paesi del mondo, a cavallo lo può fare soltanto se il cavallo è felice di stare con lui. È l'unione di due menti, di due desideri, di due aspirazioni e l'uomo è quello che ha in mano la bacchetta della regia. Se l'uomo ha la cultura sufficiente per conquistare la mente e il cuore di questo atleta pazzesco, straordinario che è il cavallo, può avere l'idea di vincere. E non solo vincere una volta, ma vincere sempre. E questo è bello, non vincere in quel caso lì, ma ogni volta che c'è una competizione essere certi di avere la chiave per essere competitivo. Questa è la nostra equitazione. Dico che sono l'ultimo dei moicani perché in effetti i miei compagni di squadra di Tokyo, che è stata la nostra più grande vittoria, la mia più grande vittoria, anche se non la più grande soddisfazione, o sono anziani o non ne hanno voglia o sono altrove. E quindi di questa formidabile squadra che, sconosciuta, arrivata dall'Italia in Giappone contro i pronostici di tanti, ha spazzato via ogni opposizione, ogni resistenza e ha vinto dominando. E' dovuta al fatto che noi eravamo gli eredi di una tradizione culturale, più che tecnica, straordinaria. nata in Italia, a Pinerolo, nella scuola di cavalleria italiana. Io ho fatto una piccola indagine dopo perché, avendo fatto studi classici, ho la mania un po' del sapere, no? e ho visto che non esiste, né mai è esistito, un grande campione in equitazione che, risalendo all'indietro, non abbia ricevuto la sua tecnica da qualcuno che è stato a Pinerolo Tor di Quinto, che erano le due sedi della scuola di cavalleria italiana. Non esiste. Se volete che io parli di me, e mi toccherà farlo, io ho vinto un'Olimpiade e ho vinto e mi sono qualificato molto bene in quasi tutti gli eventi importanti, con cavalli scartati da altri. Ma non perché io fossi particolarmente bravo, perché io non sono particolarmente bravo, perché ero stato particolarmente ben educato. Il cavallo Serving con cui ho vinto l'Olimpiade di Tokyo era un cavallo che non desiderava minimamente la collaborazione con l'uomo. Se uno di noi ci andava sopra dopo pochi minuti era per terra. Era stato evidentemente infastidito dall'umanità in generale. Vi potrei citare un altro cavallo con cui ho vinto un campionato italiano che fingeva di essere cieco perché rifiutava di collaborare con l'uomo e ha vinto un campionato italiano dopo poche settimane che io l'ho ricevuto in consegna. Ma perché? Perché il cavallo è un animale, oltre che molto intelligente, è dotato di una memoria d'acciaio ed è dotato anche di una estrema sensibilità. Un cavallo ci pesa, ci misura da lontano. Quando poi noi lo montiamo e ci saliamo sopra, coglie ogni dettaglio, ogni sfumatura e capisce e decide se fidarsi di noi o no. E così è stato. L'ultima mia Olimpiade l'ho fatto con un cavallo scartato dalla squadra inglese, si chiamava Speycast Boy, un cavallo inglese, e gli inglesi hanno detto ma come hai fatto a farlo diventare da cavallo da buttare via, andare al macello a farlo diventare un campione? Questo modo, il rispetto, la sensibilità, la conoscenza dei meccanismi mentali che comportano la collaborazione fra il nuovo uomo e il cavallo. Il genio di Caprilli, che è morto giovanissimo a 38-39 anni, sta proprio in questo, che è stato il primo etologo, il primo ricercatore del comportamento dell'animale cavallo. Ed essendo anche un uomo estremamente intelligente e dovendo addestrare dei soldati provenienti da qualunque ceto sociale e quindi non particolarmente a conoscenza del cavallo, doveva inventare un metodo che in poco tempo facesse capire all'uomo come comportarsi col cavallo. E da qui immaginate quello che è successo. Vittorie, vittorie, vittorie. Negli anni 20 e negli anni 30 non c'era gare internazionali che gli italiani non vincessero. E quindi fino ad arrivare alle grandi vittorie del dopoguerra quando, nonostante che la scuola di cavalleria fosse stata chiusa perché la cavalleria non serviva più, c'erano i carri armati al posto della cavalleria, abbiamo continuato a vincere. Perché i grandi nostri maestri venivano da Pinerola e da Tor di Quinto, che erano il luogo, oggi la diremmo l'università del cavallo. Per cui io oramai sono vecchio, per fortuna ho ancora una buona memoria, ho un fisico che mi sostiene, penso che forse qualcosa riuscirò a fare, a tramandare questo enorme patrimonio che mi è capitato addosso incoscientemente. Dico incoscientemente perché quando ho vinto le Olimpiadi di Tokyo la consideravo una gara nella mia ingenuità di ventenne. Poi ho provato altre tre volte a fare le Olimpiadi e non ci sono mai più riuscito. Finalmente sono riuscito dopo vent'anni a fare le Olimpiadi e mi sono piazzato nei primi, meravigliando tutti, ma grazie al fatto che il mio istruttore del 1964 è stato anche il tecnico del 1984 a Los Angeles. E quindi questa continuità storica è rimasta a me e io spero di poterla a mia volta distribuire a tutti quelli che vorranno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.